A Giavedì dentro l'ottava di Pasqua ci stiamo accorgendo che vengono illustrate le tante apparizioni. Leggeremo il Vangelo di San Luca e come ho detto l'altra volta, se vi ricordate, San Luca ha il sistema di fare tre quadretti, il primo e il secondo ci assomigliano, il terzo è la sintesi, l'apparizione a Maria Maddalena e alle altre donne con l'Angelo che dice le stesse parole dell'apparizione ai discepoli di Emmaus e ora appare a tutti gli apostoli e ci accorgeremo che poi la sintesi di tutte le apparizioni narrate da San Luca. In quel tempo i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano ciò che era accaduto lunga via come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stetta in mezzo all'ora e disse pace a voi. Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma ma egli disse loro perché siete turbati e perché solgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io, toccatemi e guardate un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi ma poi che per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore e disse avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrivo una porzione di pesce arrostito e glielo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora in mezzo a voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture. e disse loro così sta scritto e Cristo patirà. Risorgerà dei morti il terzo giorno e nel suo nome saranno praticati a tutti i popoli. La conversione è il perdono dei peccati cominciando da Gerusalemme. di questo voi siete testimoni. Parola del Signore, note a Deo Cristo. Facciamo luce alle apparizioni. Ciò che convinceva gli apostoli e i discepoli è vedere le piaghe nelle mani e nei piedi di Gesù. infatti diceva di Emmaus quando Gesù spezzò il pane e chiaro che spezzando il pane le mani che ci sono un pochettino ritratte e sono con base alle piaghe. Ora entra a porte chiuse e si fa anzi trovare dove stiamo discutendo. quello che diceva quello che diceva di Emmaus avevano riportato. A loro sembra un fantasmo e Gesù dice loro guardate le mie mani, guardate i miei piedi. sono io, non sono un fantasmo. Anzi avete qualcosa da mangiare? Mangiamo. E poi aprono le scritture per fare capire a tutti che quello che era stato profetizzato, che era stato predetto, che era realizzato. C'è scritto che Cristo doveva patire, subire tormenti, morire e risuscitare al terzo giorno. E voi di questo siete testimoni e dovete annunciarla a tutti per la remissione dei peccati e la conversione di tutti gli uomini. Quindi per noi è attualissima questa esortazione di fare conoscere il mistero, ho mai sperato, della redenzione. Dio, nella seconda persona della Santissima Trinità, si fa uomo, muore come noi, risorge. Per la nostra salvezza. Questo lo dobbiamo fare sapere a tutti. perché siamo testimoni. Perché siamo testimoni. Anche noi siamo testimoni. Che la resurrezione di Gesù è fondamentale. Certo, avremmo bisogno delle apparizioni, anche oggi. però, sulla testimonianza degli apostoli e dei successori degli apostoli, dal successore al successore, arriva per noi questa testimonianza storica. non direttamente della resurrezione, ma delle apparizioni. e sono raccontate in modo tale da togliere ogni dubbio. Che sia un bandasma, che sia un'illusione, che siano racconti di donizuole, ma sono racconti di uomini ben pensati. che poi, quando ricevono lo Spirito Santo, cesseranno tutte le loro paure. Attraverso la potenza dello Spirito Santo, saranno sicuri che Gesù è risorto e che risorgeranno. E lo dico da noi. Moriamo con Cristo, ma risorgiamo con Cristo. E' così per tutti noi. Ed è bello saperlo. Il giorno delle apparizioni, poi lo vedremo, all'ottava, San Tommaso, Apostolo, che fa l'ingredolo perché non era presente a questa apparizione, Gesù appare e dice la stessa cosa. Guarda le mie mani, guarda le mie che toccano. E lui, non toccano. Di prosto dice, Signor mio e Dio mio. Lo riconosce il Signore e il Signore. E Dio. Senza toccare niente. Tanto che Gesù dice, Beati coloro che l'hanno visto. Ma più beati ancora coloro che non l'hanno visto. Voleva dire anche di altri che non erano il privilegio di vederlo. San Paolo dei Corinzi. Capitolo 15, versetto 6. Dice. E infine. Apparve 500 fratelli. Tutti non è una volta. E alcuni sono vivi. Altri sono morti. c'è la testimonianza di gente fatta di carne ed ossa. Che hanno visto Gesù in carne ed ossa. Certo in maniera speciale, straordinaria. E beati noi che crediamo anche senza averla vista. Perchè lo vediamo. Amen. Dobbiamo essere testimoni. Di dove lo vediamo. Com'è che crediamo senza vederlo. Anche noi vorremmo essere leggenti. Vederlo. Ma beati noi che crediamo anche senza vederlo. Perché del resto ce l'ha detto. Dove possiamo vederlo? Dove possiamo testimoniarlo? Non aveva bisogno del Papa. Perché non tutti credono al Papa. Né nei vescovi. Né nei sacerdoti. Nel luogalistia. Perché alcuni. La maggior parte indifferenti. Non capiscono. Che c'è veramente. Realmente. Gesù. In corpo ed anima. Sangue e divinità. Non lo capiscono. Non lo capisco nemmeno a quelli che leggo la Sacra Scrittura. Non lo vedo. Ma dove si vede? Gesù ha detto. Da questo. Da questo. Mi riconosceranno. Mi riconosceranno. Se vi amerete gli uni agli altri. Come io ho amato voi. Allora. La testimonianza. Non è manco nei miracoli. Ma è il grande. Più grande miracolo. Di trovare delle persone. Che amano. Senza essere amati. Che si mettono al servizio. Anche dei nemici. Che sanno benissimo testimoniare. L'amore. Come il sole. Che splende. Per tutti. Giusti. E peccatori. Buoni e cattivi. Così. Deve essere la nostra testimonianza. Noi. Faremo vedere. Che il Signore c'è. Perché è amore. E quando c'è un amore. Così gratuito. Tutte crederanno. A me. Il Signore. Siamo voi. Il Signore. Vi protegga. Non mi faccia rispondere su voi. Il suo volto. E vi dia la sua misericordia. Mi rivolgo al suo sguardo. Versi di voi. E vi dia la sua pace. E la benedizione. Di Dio Onipotente. Padre. Figlio e Spirito Santo. Di scendere su di voi. E con voi rimanga sempre. Amen. che sia testimoniato. Da quelli che assistono i malati. Più sofferenti. Di quelli che. Amano. E aiutano. Le persone. Disperate. Per la parola che comporta la consolazione. Ma anche. Un servizio. Fattivo. La benedizione. Scenda. Tutti quelli che. Si giocano la vita. Per Gesù. Questo avvenga. Per l'intercessione. Maria Santissima. Sempre Vergine. Immaculata. Madre di Dio e Madre Nostra. San Francesco. Sant'Antonio. San Giuseppe. Tutti i Santi. Gli Angeli. Compreso. San Michele. Arcancio. Alleluia. 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 Gesù è risolto. Veramente risolto. E vivo. In mezzo a noi. Alleluia. Alleluia. Alleluia.